buongiorno buongiorno dal dottor claudio saraceno da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi di cs vera e professionale con la v maiuscola oggi ragazzi rispondo ad un signore di madrid spagna che mi parla di dieta come fa posso fare dottore a dimagrire non riesco le ho provate tutte sono andata sono andata in palestra ho sollevato pesi ho fatto tutto di più ma rimango sempre con quei 15 chili in più che mi portano l'esaurimento nervoso perché non mi piaccio cosa posso fare con l'ipnosi di cs vera e professionale con la v maiuscola io ho risposto che il proprio subcosciente conosce la vera ragione la vera causa alla propria corporatura possiamo dire al proprio peso e per liberarsi del peso fisico bisogna lavorare sul peso mentale le preoccupazioni le paure ok come fare puoi fare da solo oppure anche scaricando di un audio mp3 dices dal titolo ipno dieta che guiderà il tuo subcosciente ad eliminare tutto il peso in eccesso e a ristabilire il tuo peso ideale naturalmente devi seguire le istruzioni alla lettera la prova di un nonno alla prova di un idiota la prova di un pigro e buttare via l'orologio il tempo perché il metodo di cs di ipnosi di cs vera professionale non ruba tempo né a te né ai tuoi cari ma devi seguire la lettera le istruzioni molto facili facilissime alla prova di un nonno alla prova di un pigro alla prova di un idiota d'accordo lo so che adesso dirai ma che cosa dici che cosa racconta io le ho provate tutte non ci sono riuscito bene anche mio padre nel 2008 colpito da un ictus fulminante dicevano che non era possibile che non c'era nulla da fare eppure mio padre se n'è uscito grazie all'ipnosi vera professionale di los angeles baby hills per cui quando ti dicono non è possibile non è possibile per loro ecco cosa devi pensare non è possibile per loro che conoscono i loro strumenti le loro tecniche ma non conoscono l'universo non conoscono soprattutto il tuo sub cosciente il tuo pilota automatico la tua mente potente ok fammi tutte le domande del caso ti risponderò gratis compatibilmente ai miei tempi e impegni visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni dcs il dottor claudio saracino e fa share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi gentilmente anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni dcs del dottor claudio saracino un bacio un abbraccio amico mia amica mia e alla prossima dal dottor claudio saracino ciao